Siamo oggi alla vigilia del nuovo anno e ovviamente andiamo ad archivare un anno difficile un anno che ci ha toccati tutti, ci ha provati Santa Maria Vico, l'Italia intera, il mondo intero con la pandemia che ha fatto male anche alla nostra comunità proprio ieri in Consiglio Comunale abbiamo ricordato le dieci vittime che la pandemia ci ha portato via e le attività che andremo a fare per ricordarle annualmente con la giornata della memoria proprio per ricordare le nostre vittime della pandemia ma oggi vuole questo essere un messaggio solo di augurio di un nuovo anno di speranza con la certezza che con il vaccino almeno la seconda parte dell'anno possiamo tornare tutti noi alla normalità possiamo tornare ad abbracciarci la cosa che più ci manca in parte a noi del meridionale è proprio quello del contatto diretto, il contatto fisico ma la speranza non deve mancare, non deve venire meno perché siamo arrivati a una fase che con una programmazione così come è partito il vaccino possiamo poter dire l'anno prossimo che questa brutta malattia la troveremo alle spalle e allora avviciniamoci tutto al nuovo anno con fiducia chiaramente consapevole che dobbiamo ancora fare qualche sacrificio perché da domani parte il nuovo anno ma nulla cambia rispetto a oggi dobbiamo fare ancora un periodo di sacrifici sapendo che abbiamo trovato la strada maestra per eliminare questo virus per cui io oggi a nome dell'intera amministrazione voglio abbracciarvi idealmente e dire ce la faremo siamo sulla buona strada continuiamo a fare qualche sacrificio perché ormai arriveremo alla conclusione di un'esperienza che ci rimarrà per la vita quindi a voi tutti un grande abbraccio un grande augurio di un nuovo anno un anno di speranza e voglio rivolgere anche ai ragazzi della scuola che forse sono quelli che hanno sofferto ancora di più gradualmente partiranno anche le attività didattiche iniziando dalla infanzia perché credo che sia necessario creare nuovamente quella fratellanza quella unione che i bambini hanno quella socialità che i bambini hanno bisogno di avere tra loro la didattica a distanza sicuramente è stato qualcosa di importante ma non per i piccoli per cui lo sforzo che faremo inizialmente al primo dell'anno è quello di fare in modo di cominciare a garantire la frequenza dei ragazzi dell'infanzia e poi gradualmente delle elementari e delle medie per cui ancora una volta voglio rinnovare il mio personale augurio di un anno diverso da questo un anno di prospettive positive di ottimismo un anno di fiducia perché tutti noi abbiamo bisogno di riprenderci di riprendere le normali attività e di continuare a far essere quello che è il nostro paese un grande paese che ha bisogno di correre e credo che tutti insieme almeno la seconda parte del prossimo anno incomincieremo a correre inizio buon anno a tutti voi grazie a tutti Grazie a tutti